da seduti sui talloni piegati in avanti spostiamo le mani vicino alle ginocchia solleviamo la schiena mettiamo i piedi a martello ci sediamo sui talloni inarcati poi incurvando la schiena distendiamo le gambe portiamo la testa verso le ginocchia ritorniamo appoggiamo le ginocchia inarchiamo la schiena guardando in alto ripetiamo incurviamo distendiamo le gambe ritorniamo guardiamo in alto ritorniamo su se anche le gambe non si stendono ci fermiamo dove possibile se i talloni non si appoggiano ci fermiamo dove possibile spostiamo le mani verso i piedi piegando le ginocchia controlliamo che i piedi siano paralleli le ginocchia parallele alla stessa distanza dei piedi lasciamo la testa cadere verso il pavimento rilassando il collo lasciamo andare giù le spalle le braccia i gomiti rilassiamo l'addome appoggiamo la pancia sulle cosce ora con un movimento di rotazione del bacino risucchiando l'addome saliamo una vertebra dopo l'altra quando siamo in posizione retta cerchiamo l'allineamento la testa tirata in alto le spalle cadono in basso l'addome leggermente risucchiato le ginocchia distese l'osso sacro abbassato ripartiamo con la testa scendendo una vertebra dopo l'altra la parte anteriore si chiude la parte posteriore si allunga sentiamo ogni parte della schiena arrotolarsi scendiamo con le gambe tese se è possibile quando ci fermiamo pieghiamo le ginocchia appoggiamo il busto sulle cosce facciamo un respiro e poi ruotando il bacino ritorniamo una vertebra dopo l'altra osserviamo da dentro il nostro allineamento ripetiamo un'ultima flessione in avanti a partire dalla testa allungando le vertebre cervicali poi distendendo aprendo le vertebre dorsali allungando quelle lombari e infino ruotando le articolazioni cocso femorali quando siamo completamente piegati in avanti pieghiamo le gambe ci appoggiamo sulle cosce ci lasciamo andare un attimo in questa posizione poi ruotando il bacino ritorniamo la testa è l'ultima a salire quando siamo arrivati di nuovo cerchiamo di allineare tutto il nostro corpo una volta trovato l'allineamento piano piano ci rilassiamo rimanendo nella stessa posizione rilassiamo il collo le spalle le braccia le mani le dita delle mani rilassiamo il torace e giù fino ai piedi lasciamo scendere la forza il peso in alto la leggerezza in basso la pesantezza nel mezzo il corpo respira lasciamolo respirare la pesantezza nel mezzo lasciamo quindi il video bend こ そanto